Attilio Urciuolo, servizi internet e siti web. I reati di nottemperanza alle prescrizioni del decreto di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e gettito di cose idonee a molestare le persone. Tali reati sono stati contestati in quanto all'esito degli accertamenti delegati dagli inquirenti di Piazzale di Massico, anche a seguito di segnalazioni da parte di numerosi cittadini di emissioni moleste e nauseabonde provenienti dall'impianto di depurazione. Veniva identificata l'inadempienza da parte del gestore alle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione regionale che imponeva l'adozione di tutti gli accorgimenti mirati a contenere le emissioni diffuse entro i valori consigliati dall'organizzazione statunitense che si occupa di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la mancata comunicazione agli organi preposti in materia delle risultanze agli adempimenti richiesti dalla regione Campania. Nel corso delle indagini è stato effettuato un sopralluogo presso il sito. Nel corso del blitz sono state accertate svariate criticità e anomalie nell'impianto di depurazione relativa in particolare all'assenza di un idoneo sistema di abbattimento delle salazioni maleodoranti immesse direttamente in atmosfera e all'esercizio dell'impianto in assenza dell'autorizzazione unica ambientale. È messo in modo palese, leggiamo nella nota della Procura, che le emissioni prodotte dall'impianto arrecono fastidio o molesti alla popolazione limitrofa. Numerosi cittadini che avevano denunciato l'odore nauseabondo proveniente dall'impianto di depurazione che li costingeva a tenere chiuse le finestre e i balconi delle proprie abitazioni.